Accelera la campagna vaccinale in Abruzzo per la somministrazione delle terze dosi. Nella nostra regione ne sono state inoculate già 70.000, di cui 40.000 solo nell'ultimo mese, con punte di 4.000 somministrazioni al giorno. L'Abruzzo, rispetto alle altre regioni, è partito prima con la campagna riservata agli immunocompromessi. Il 76,47% di questa categoria ha ricevuto la terza dose, mentre la media nazionale è del 59,64%. L'Abruzzo è però indietro per quanto concerne la somministrazione agli ultrasessantenni. Qui ne è stato immunizzato il 16%, due punti percentuali sotto la media nazionale. Dal 1 dicembre inoltre è prevista l'apertura generalizzata agli over 40 che vogliano ricevere la terza dose. Nel complesso i numeri sull'avanzata del covid sono in crescita, ma i parametri abruzzesi sono ancora da zona bianca. Per rimanere senza restrizioni, il Ministero ha stabilito il limite di 50 casi ogni 100.000 abitanti per quanto riguarda l'incidenza settimanale, limite che in Abruzzo è superato già da tempo. Qui infatti l'incidenza settimanale è attualmente a 80. A mantenerci in zona bianca però è il tasso di ospedalizzazione. Nella nostra regione è occupato il 7% di posti letto in terapia intensiva e il 6% di quelli in area medica, a fronte di un limite rispettivamente del 10 e del 15%. Superate queste soglie scatterà automaticamente la zona gialla.